Suggerimento per Bappé, le Cats che perdono il possesso, c'è la prateria per andare, Salah! Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare una per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. E si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non furirne altri, esatto, non facile per quanto si è visto finora. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura.